Ci vedremo spesso. Sono queste le parole del nuovo arcivescovo di Campobasso Boiano, Monsignor Biagio Colaianni, ai fedeli che ieri lo hanno accolto con gioia e campane a festa nell'antica cattedrale di Boiano. Il suo secondo appuntamento della giornata, dopo la messa celebrata a Campobasso in mattinata, è il suo insediamento nella Basilica Minore di Castelpetroso. Prima della celebrazione della Santa Messa, ha salutato le famiglie e ha carezzato i bambini con quel gesto paterno e affettuoso che ricorda Giovanni Paolo II. Ho pensato di venire a Boiano per la sua storia e quindi il mio insediamento in Arcidioce non poteva non tenere presente una storia nella quale mi inserisco e che sicuramente appartiene al popolo di Dio nella fede. Credo che quello che noi oggi siamo e siamo sempre frutto anche di quello che nella storia si è realizzato, un popolo che ha pregato, ha servito, ha onorato Dio in questa chiesa, in questa cattedrale, antica cattedrale, credo che sia la fede della gente sulla quale noi andiamo ad appoggiare anche il nostro futuro, anche la stessa, diciamo, sede attuale a Campobasso. Siamo felici del nuovo Vescovo? Attendevamo con ansia una nuova guida spirituale, ha commentato il sindaco Carmine Ruscetta che si è detto fiducioso anche dell'impegno che Monsignor Colaianni riserverà alle problematiche sociali. Siamo convinti, siamo certi che per noi sarà un punto di riferimento molto ma molto importante non solo per quanto riguarda tutto ciò che è la religione ma anche e soprattutto perché sarà vicino a noi in tutte le problematiche che dovremo affrontare anche dal punto di vista sociale. Tra gli impegni presi da Monsignor Colaianni, un'attenzione particolare alle periferie e alle piccole diocesi. È da qui che si coltiva la vera evangelizzazione, ha evidenziato Don Rocco di Filippo, parroco di Boiano. Questa nostra città è molto attenta ai Vescovi, qui nell'antica diocesi il Vescovo è presente dal 501, quindi c'è molta storia, c'è molta cultura e c'è fede, per cui il Vescovo che arriverà sarà da tutti noi accolto ben voluto e con lui veramente possiamo guardare il futuro con un passo veloce per evangelizzare il popolo di Dio.